Un altro uomo è finito in carcere per il pestaggio avvenuto a Terralba il 29 marzo scorso. Accusato di tentato omicidio in concorso, i carabinieri hanno arrestato un quarantenne del posto. Secondo gli inquirenti avrebbe aiutato un compaesano già arrestato all'indomani dell'accaduto a portare la vittima del pestaggio nelle campagne del paese. Lì l'uomo fu picchiato con mazze da ferro e gli fu rubata l'auto, poi ritrovata a Sardara.